Allora, cari amici, vi presento questo nuovo libro uscito da poco, Da lì al noi, La via per un mondo nuovo, edito da Rizzoli, e leggendovi semplicemente alcuni frammenti che sono decisivi per comprendere la società di oggi. Capitolo 16, Essenza della Costituzione del 1948. Qui presento una mia personale sintesi della Costituzione del 1948, aggiornandola, aggiungendo alcune frasi, per renderla più comprensibile nella situazione in cui viviamo oggi, e con le conoscenze che oggi noi abbiamo, le conoscenze in gran parte determinate da una propaganda neoliberista continua. Quindi questa sintesi consente di confrontare la Costituzione originale del 1948, con queste piccole modifiche, che però non sono modifiche se non in mellius, per far comprendere meglio, con la Costituzione effettivamente vigente oggi, cioè la Costituzione neoliberista. In altre parole, parto dalla Costituzione nel 1948, nell'essenza della Costituzione, tradotta in pochi articoli essenziali, e faccio vedere come questa Costituzione sia stata trasformata nella Costituzione materiale oggi vigente, quella neoliberista. Bene, tutti ricorderanno la formulazione originaria dell'articolo 1, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Qui è un pochino ampliato e poi dopo segue. La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nei forme e nei limiti della Costituzione. E qui ho aggiunto. E al popolo non può mai essere sottratta. Non è pertanto ammissibile alcuna cessione di sovranità nella politica monetaria, economica o finanziaria. Perché ho aggiunto questo pezzo? Non può mai essere sottratta? Non può essere ammessa alcuna cessione di sovranità? Perché adesso, fra un attimo, vi faccio vedere com'è invece la Costituzione neoliberista di oggi, in cui questa cessione è avvenuta in modo sempre più esteso. L'articolo 1, nella nuova Costituzione neoliberista, è totalmente trasformato. Non è più l'Italia è una Repubblica democratica, ma l'Italia è una Repubblica oligarchica, cioè governata da pochi, fondata sulla proprietà privata e sulla speculazione, quindi non fondata sul lavoro, ma sulla speculazione. La sovranità appartiene a chi? Al popolo? No, appartiene ai mercati che la esercitano, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione, adeguata e interpretata alla luce però dei trattati europei, non quella originaria, la nuova Costituzione. Articolo 2, la Repubblica aderisce all'Unione Europea, vero o no? E favorisce tutte le cessioni di sovranità monetaria, economica e finanziaria, necessarie alla creazione del mercato comune e della moneta unica, cioè dell'euro. È forse non corretto così? Mi sembra che non sia così? Articolo 3, in armonia con i trattati europei, la Repubblica attua la libera circolazione di capitali, merci, persone e servizi e promuove le condizioni che rendono effettiva un'economia di mercato fortemente competitiva. Ripeto, in armonia con i trattati europei, la Repubblica promuove le condizioni che rendono effettiva un'economia di mercato fortemente competitiva. Quella di oggi, cari amici che avete perso il lavoro o che avete visto diminuire il vostro salario o avete visto diminuire i vostri diritti costituzionali del lavoro, bene, sappiate che la Costituzione a cui dovete rifarvi oggi è questa, scritta da me, questa qua, che non è altro che la descrizione esatta di quello che è successo. Quindi questa circolazione di capitali, questa economia di mercato fortemente competitiva è che serve all'incremento e alla concentrazione di produzione e ricchezza. Cioè serve a distruggere il lavoro e a concentrare la ricchezza nelle mani di pochi. Se ho toccato idee sempre più confuse, ho ritenuto importante chiarirle al meglio possibile. Quindi sentite bene, la pace, articolo 5, la pace e la giustizia tra le nazioni, che nella Costituzione del 48 era uno dei centri fondamentali, la protezione dell'ambiente e della famiglia, altro diritto fondamentale, il diritto alla salute, all'istruzione, alla pensione, il diritto al lavoro, la tutela del risparmio popolare, quindi tutti questi diritti, sono in ogni caso subordinati agli interessi commerciali e finanziari. L'avete capito adesso perché avete problemi? Così come è patuito nell'ordinamento internazionale vigente. Quindi l'ordinamento internazionale vigente, fatto dai trattati, mette la pace e la giustizia tra le nazioni molto dopo gli interessi commerciali. Quindi se avete dei problemi, sappiate che le origini dei vostri problemi sono questi. E poi completo, le norme della Costituzione originaria, che pure continua a esserci, con essa contrastanti, con questa visione contrastanti, sono implicitamente abrogate. Spero che lo capiate e che diffondiate questo video il più possibile. Grazie.